Bocci, consigliaccia Ruti, ha chiesto intervenire nella facoltà. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i colleghi. Sì, io come sempre, come mia consuetudine, ho letto attentamente la mozione del collega Piccirillo, ho ascoltato altrettanto attentamente la sua illustrazione, ho ascoltato anche l'intervento della collega Bocci. Più leggo, più ascolto e più mi meraviglio, perché sembra quasi di essere in un mondo fantastico quello che descrivono loro, ossia nel mondo dove ci sono degli spettacoli viaggianti che danno la possibilità, da un punto di vista di indotto, di creare un certo tipo di spettacolo, come dice il termine stesso. E dall'altro lato comunque delle garanzie. Quando sento il collega Piccirillo, la collega Bocci, che dicono che bisogna eliminare tutti gli animali dai circhi, perché c'è il maltrattamento degli animali, perché non siamo una società civile, perché non possiamo far soffrire gli animali per il nostro divertimento, devo pensare che ignorino come, non solo in regione, ma in tutta Italia, ci siano una serie di importanti controlli, di controlli selettivi, su quello che è il trattamento degli animali all'interno degli spettacoli viaggianti. Se noi partiamo dal presupposto che non ci sono dei controlli, partiamo dal presupposto sbagliato. Perché? Perché c'è un sistema, che è il sistema delle ATS, che consente e impone ai medici veterinari di fare tutti i controlli debiti. Ci sono delle situazioni nelle quali gli animali sono ben trattati, sono ben tenuti e ci sono delle situazioni che ovviamente contestiamo, che combattiamo, alle quali siamo assolutamente contro, siamo in linea con voi, dove gli animali non vengono ben tenuti. Però non si può fare di tutta l'erba un fascio. Dobbiamo cercare di tutelare il benessere animale, ma dobbiamo anche tutelare quella che è un'antica attività, che è l'attività circense. E credo che sia offensivo nei confronti di chi, facendo il proprio lavoro, facendolo bene, facendolo con passione, oggi si sente dire che maltratta gli animali. Voi forse ignorate che si creano tra l'uomo e l'animale delle sinergie per le quali il maltrattamento è un qualcosa che è completamente estraneo all'uomo che lavora e che collabora con il proprio animale. È anche vero che all'interno dei circhi ci sono delle tipologie di animali che non sono inserite nel loro contesto ambientale naturale. Ma è altresì vero che moltissimi di questi animali, non è che il leone viene preso dalla savana, viene portato via, solitamente nascono in cattività. Cioè quindi la situazione è ormai questa. Bisogna capire cosa vogliamo fare di questi animali. Vogliamo liberarli domani? Dove li liberiamo? Vogliamo metterli comunque in un'altra struttura dove sono chiusi in una gabbia? Miglioriamo in questo modo la loro situazione? Io credo di no. Quindi a parte queste mie considerazioni che non mi trovano assolutamente in linea con quello che è stato detto prima, volendo trovare un qualcosa di buono nella mozione, io francamente ho delle enormi difficoltà. Perché il collega fa delle premesse dove dice che c'è una legge delega dal 2017 e che il governo si deve attivare per andare ad eliminare piano piano, gradualmente, la presenza di animali nei circhi. E su questo sono anche d'accordo, nel senso che se comunque c'è un settore che è in crisi, se comunque c'è la possibilità piano piano di andare nella direzione, se non si può più fare diversamente e di impedire comunque che venga portato avanti questa cosa, facciano questa legge delega. Però poi nell'impegna mi dice che Regione Lombardia deve dire al governo o addirittura deve attuarsi per dirgli di attivarsi in questo senso. Allora, o uno o l'altro. Di questo dobbiamo cercare anche di capirci cosa vogliamo. Ma dall'altro lato viene fatta un'altra richiesta nell'impegna che è quella di avere dei veterinari specializzati. Anche qui, non so se il collega Piccirillo è andato a vedere cosa comporta essere un veterinario specializzato, nel senso che lo intende lui. Comporta partecipare, iscriversi ad un college europeo molto costoso e molto selettivo che solitamente fa in modo che ci siano pochissimi veterinari specializzati in questa categoria. E ce ne sono proprio talmente pochi che diventa anche impossibile pensare di dotare tutte le ST di una figura simile. Quindi anche su questo aspetto io non lo so se lui ha fatto delle valutazioni oppure no. Per cui, francamente, direi, visto che siete ancora al governo non lo so per quanto, però comunque oggi ci siete ancora visto che state andando scomparendo rivolgetevi direttamente al governo e chiedete che attui semplicemente a quella delega che ha ricevuto nel 2017 e che non stanno portando avanti. Grazie. Grazie, consiglia Ceruti. Intervento del Presidente Comazzi